L'Italia è un paese di innovatori, quindi si fa riferimento alle persone che sanno innovare. Dopodiché ci si lamenta che in Italia c'è poca innovazione. C'è un problema evidentemente. Allora guardate, innovazione è la capacità di pensare le cose in maniera diversa dalla classica linearità. C'è una cosa che non deve conseguire naturalmente. Il vero problema è che qui parliamo di innovazione tecnologica. Per fare innovazione tecnologica bisogna conoscere la tecnologia. E purtroppo in Italia si pensa che l'innovazione si possa fare perché si è un po' smart, come si dice in questo ambito, e non perché si è studiato molto. Quindi dobbiamo cominciare a coniugare innovazione con tecnologia e con conoscenza.